Internet dai celli d'Italia oscura le stelle e irradia il cancro. Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle, puntata numero 43, terza stagione. Arriva in Italia la connessione Internet satellitare a banda larga e alta velocità. Spazio, i satelliti di Starlink oscureranno le vere costellazioni, titola Focus, sollevando il problema su quelle finte, in orbita bassa a circa 500 km dalla Terra. La luminosità della flotta di SpaceX, che porterà Internet ultraveloce in tutto il pianeta, preoccupa gli astronomi. Nei prossimi mesi potremo ritrovarci con decine di luci artificiali visibili nel cielo notturno. Sì, è vero, ma la più grande preoccupazione, oltre detriti orbitali e sicurezza spaziale, in realtà è un'altra. L'Internet dal cielo, cioè il 5G dallo spazio, è infatti uno tsunami elettromagnetico senza precedenti di agenti possibili cancerogeni, radiofrequenze irraggiate dall'alto, a cui nessuno dal basso potrà sottrarsene e trovare riparo, comprese fasce deboli e soggetti sensibili della popolazione, come neonati, bambini, anziani, malati cronici e da sindrome ambientale, elettroipersensibili, cardiopatici, portatori di pacemaker e apparecchi elettromedicali. Dispolibile in Italia con una lucandina pubblicitaria di Starlink, scrive Elon Musk su Twitter annunciando l'imminente invasione del wireless dai cieli nostrani, anche nei luoghi nei quali l'accesso alla rete non è affidabile o non è disponibile. Internet ad alta velocità nelle regioni più rurali e isolate. Questo è lo spot promozionale per chiedere 30 giorni di prova, soddisfatto o rimborsato, nessun contratto, poi 50 euro al mese di abbonamento e altre 450 per il kit con hardware, installazione fai da te, antenna, router, wifi, alimentatore, cavi e un supporto treppiede in cambio di 124,39 MB al secondo di download. Streaming in 4D, videochiamate, giochi online con gestione da un'app. Ora scarichiamo file, riproduciamo Pandora, usiamo Zoom e non abbiamo nessuna latenza. Soddisfatto e gaudente, testimoni a Davide dalla provincia di Grosseto. Wow, che figata! Sì, ma con quali autorizzazioni rilasciate dagli organi sanitari del governo italiano, con quale nulla ossa, quale permesso o approvazione di sicurezza ambientale, con quali garanzie per la salute pubblica nell'utilizzo di frequenze ubiquitarie nella sommatoria multipla e cumulativa di massicce flotte spaziali e poi quale responsabilità nella prevenzione del danno si è assunto il Tycon della Silicon Valley per invadere lo spazio sopra le nostre teste? Investiti 10 miliardi di dollari in infrastruttura tecnologica, la risposta è semplice. Niente e nessuna. Sufficiente è la promessa del vice premier Matteo Salvini di spalancare le porte a Palazzo Chigi. Elon Musk è un genio innovatore, non vedo l'ora di incontrarlo. E poi l'incontro privato in Vaticano con Papa Francesco, onorato di aver incontrato il prontefice transumanesimo urbi et orbi, evidentemente quanto basta per una benedizione onnicomprensiva, così in terra come nell'alto dei cieli. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G Salute Ambiente Geopolitica Privacy Transumanesimo Controllo Sociale Libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.oasisana.com. Ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche sul media player Leali del Bruco. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci. Grazie a tutti per la prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti